buongiorno ragazzi e bentornati sul canale s channel in questo video andremo avanti con il nostro percorso sul networking in questa video lezione quindi andremo a parlare di posta elettronica vedremo il protocollo smtp i protocolli pop 3 e i map vedremo cos'è uno user agent come lavora un server di posta e andremo a vedere anche come è composto un classico messaggio smtp tra server e client raccomando sempre ovviamente come in ogni video di seguire tutta la lezione in modo da capire bene tutti i concetti illustrati inoltre a chi volesse suggerisco di andare a rivedere i video precedenti relativi al networking e per chi non lo avesse già fatto di iscriversi al mio canale in modo da essere aggiornati sempre sui video in uscita potete seguire inoltre s channel anche su instagram e twitter dove quotidianamente vengono pubblicate news e curiosità relative al mondo della sicurezza informatica e del networking bene iniziamo la nostra lezione parlando di posta elettronica tutti noi quotidianamente utilizziamo la classica email di lavoro ma anche per mandare semplicemente una email ad un amico oppure ad una azienda per chiedere info su un loro prodotto l'email quindi rappresenta un mezzo di comunicazione asincrono ovvero gli utenti possono leggere o inviare messaggi senza doversi coordinare l'uno con l'altro dobbiamo introdurre quindi il concetto di user agent il concetto di mail server e il concetto di protocollo smtp simple mail transfer protocol lo user agent consente agli utenti di leggere salvare inoltrare rispondere ma anche semplicemente scrivere un messaggio di posta quindi se prendiamo in esame due utenti mario e francesco nel momento in cui mario termina di comporre il suo messaggio il suo user agent che potrebbe essere ad esempio microsoft outlook lo invia al server di posta dove verrà posto in coda nei messaggi in uscita a questo punto quando francesco vorrà leggere il messaggio il suo user agent lo andrà a recuperare dalla casella di posta nel suo mail server i mail server quindi costituiscono la parte centrale dell'infrastruttura del servizio di posta elettronica in buona sostanza sono dispositivi che gestiscono la ricezione della posta in arrivo lo smistamento della posta in uscita e l'accesso stesso alla propria casella di posta da web mail svolgendo il compito di accettare e ridistribuire in modo corretto le email per farle giungere al mittente ciascun utente come ad esempio francesco ha una casella di posta una mailbox collocata in un mail server dove all'interno ci sono i messaggi a lui inviati quindi se andiamo a vedere il percorso che segue un tipico messaggio parte dallo user agent arriva al mail server del mittente e prosegue fino al mail server del destinatario dove viene depositato nella sua cartella ovviamente per accedere ai messaggi della propria casella francesco dovrà accedere mediante user e password una delle caratteristiche che i mail server hanno è quella di essere in grado di gestire anche eventuali problemi dei server di posta ovvero se il server mittente non riesce a trasferire al server destinatario lo trattiene in coda nei messaggi e cercherà di trasferirlo in un secondo momento smtp quindi rappresenta il principale protocollo a livello di applicazione per la posta elettronica su internet fa uso di un servizio di trasferimento dati affidabile quale tcp per trasferire la mail e dal server del mittente al server del destinatario diciamo che rappresenta il punto centrale della posta elettronica e per chi fosse interessato consiglio di andarsi a vedere la rfc 53 21 che è quella di riferimento per smtp simple mail transfer protocol presenta un lato client in esecuzione su mail server del mittente un lato server in esecuzione sul server del destinatario in pratica il server mittente che invia posta ad un altro lavora come client smtp invece quando riceve posta fungerà da server smtp è un protocollo testuale relativamente semplice nel quale vengono specificati uno o più destinatari di un messaggio e dopo aver verificato la loro esistenza il messaggio viene trasferito il protocollo smtp utilizza come protocollo di livello di trasporto tcp il client apre una sessione tcp verso il server sulla porta 25 anche se molti provider per limitare lo spam utilizzano al suo posto la porta tcp 587 una restrizione piuttosto penalizzante che presenta il protocollo smtp all'utilizzo dell'aski a 7 bit questo richiede che i dati multimediali binari prima di essere inviati vengano codificati in aski e una volta trasferiti vengano di nuovo convertiti in binario ma andiamo a vedere il percorso di un semplice messaggio tra mario e francesco mario aprirà il suo user agent indicherà l'indirizzo di posta di francesco scriverà il testo del messaggio e darà istruzione di inviarlo quindi lo user agent di mario invierà il messaggio al suo mail server dove verrà collocato in coda nei messaggi a questo punto il lato client di smtp che quindi si troverà sul server di mario vedrà il messaggio in coda e aprirà una connessione tcp verso il server smtp in esecuzione sul mail server di francesco una volta che sarà stabilità la connessione server e client effettuano una forma cosiddetta di handshaking a livello applicativo apro una parentesi se volete approfondire il concetto di handshaking ne parlo nella lezione networking numero 5 che trovate nei video presenti sul mio canale quindi dopo l'hand shaking il client smtp invierà il messaggio di mario sulla connessione tcp come abbiamo detto precedentemente di solito sulla porta 25 una volta arrivati al mail server di francesco il lato server riceverà il messaggio e verrà posizionato nella casella di posta francesco potrà aprire il suo user agent e quindi leggere il messaggio quando vorrà smtp è un protocollo connection oriented text based nel quale un mail sender comunica con un mail receiver inviando stringhe di comandi e fornendo le informazioni necessarie attraverso un canale di comunicazione affidabile tipicamente basato su tcp una sessione smtp consiste nello scambio di comandi generati da un client smtp e le corrispettive risposte del server una sessione può includere zero o più transazioni smtp che a sua volta consiste in tre sequenze di comandi e risposte quindi per effettuare un dialogo diretto con un server smtp è possibile usare il telnet per esempio digitiamo telnet il nome di un mail server locale e la porta in questo caso 25 dopo aver digitato questa riga andiamo a dare dei comandi quali ad esempio mail from ossia il comando per definire l'indirizzo di ritorno chiamato anche return pet o reverse pet rcpt ossia il comando per definire il destinatario del messaggio questo comando può essere anche inviato più volte una per ogni destinatario ovviamente data comando inviato per segnalare l'inizio del messaggio di testo il contenuto del messaggio come definito nell'envelopo consiste di un header ed un body separati da una linea vuota data tuttavia è un insieme di comandi ai quali il server risponde due volte la prima volta come conferma di ricezione del testo la seconda dopo la sequenza di end of data per accettare o rifiutare l'intero messaggio oltre alle risposte intermedie al comando data ogni risposta del server può essere positiva o negativa e queste ultime a loro volta possono essere permanenti o temporanee smtp viene anche definito protocollo push perché il mail server di invio spinge il messaggio al mail server di destinazione la connessione tcp viene iniziata dall'host che vuole spedire il messaggio abbiamo quindi capito che lo user agent del mittente in questo caso mario non dialoga in modo diretto con il server del destinatario lo user agent di mario depositerà dapprima l'email nel proprio mail server e poi li spingerà al mail server di francesco quindi si preferisce usare un passaggio intermedio in modo che in caso di eventuale malfunzionamento del mail server ricevente il mail server mittente potrà ripetutamente tentare l'invio del messaggio per esempio ogni 30 minuti finché il mail server destinatario non diventa operativo prima di iniziare a trattare pop 3 ma ricordo a chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al mio canale con un semplice clic qui sotto pop 3 è un protocollo di accesso alla posta estremamente semplice ed entra in azione quando lo user agent apre una connessione tcp verso il mail server sulla porta 110 in questo caso una volta che la connessione è stabilita pop 3 procede in tre fasi autorizzazione transazione e aggiornamento lo user agent dunque invierà nome utente e password durante la fase di autorizzazione in modo da autenticare l'utente nella transazione lo user agent recupererà i messaggi ma potrà anche marcare i messaggi per la cancellazione mentre nella fase di aggiornamento che avverrà dopo il comando quit si concluderà la sessione il server in una transazione pop 3 risponderà ad ogni comando utilizzando la risposta ok oppure errore per indicare che qualcosa nel precedente comando non ha funzionato uno user agent che usa pop 3 può spesso essere configurato dall'utente ad esempio per scaricare e cancellare oppure per scaricare e mantenere diciamo che dipenderà dalla modalità operativa scelta ad esempio nella modalità scarica e cancella lo user agent manderà i comandi list oppure daily la sintassi comunque per il protocollo pop 3 viene definita nell'rfc 19 39 magari più avanti dedicheremo anche qualche video anche alla sintassi di questi tipi di protocolli ricordiamo che i protocolli pop 3 e ma permettono di ricevere la posta mentre smtp permette di inviare la nostra posta imap è lo stesso un protocollo quindi di accesso alla posta ma presenta potenzialità maggiori rispetto a pop 3 ed è quindi molto più complesso un server imap associa ad esempio una cartella ad ogni messaggio arrivato al server ma fornisce anche i comandi per consentire agli utenti di creare cartelle è spostare i messaggi da una cartella ad un'altra inoltre i server imap a differenza di pop 3 conservano informazioni di stato sull'utente da una sessione all'altra un'altra cosa a mio parere molto utile per imap è la presenza di comandi che permettono agli user agent di ottenere singole parti dei messaggi e questo in caso di scarsa connessione potrebbe permettere all'utente di non scaricare tutti i messaggi presenti in cartella per oggi abbiamo terminato con la lezione se in qualcosa sono stato poco chiaro oppure volete maggiori informazioni in relazione a qualche concetto discusso in questo video potete tranquillamente lasciare un messaggio sotto anche se qualcuno volesse suggerire qualche argomento particolare da trattare lo può scrivere nei commenti vi ricordo se non lo avete ancora fatto di iscrivervi al canale semplicemente con un clic qui sotto e di seguirmi sulle pagine instagram e twitter grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione